La risposta è che intanto creavano problemi i ragazzi, i bambini alle scuole ed erano più un elemento di pericolo che altro. La seconda è che avevamo già una ditta che ha vinto la gara, solo che essendo impegnata nel terremoto ha rinunciato, quindi stiamo proseguendo con la gradatoria per affidare i lavori e fare iniziare i lavori del teatro Giovanni Santi che dovrà essere realizzato un annetto così come per il Comune, perché la ditta che ha iniziato a fare i lavori del Comune ha un anno di tempo per consegnare il Comune e per poi spostare tutti gli uffici salvo mantenere nelle colline alcuni uffici a Colbordo, a Sant'Angelo, nelle zone collinari che intendiamo valorizzare, lì sarà l'unica struttura. Il teatro farà parte di una rete culturale che sono i cori, sono le compagnie dialettali, che sono la banda musicale Giovanni Santi, tra l'altro il teatro sarà Teatro Giovanni Santi, già intitolato dalla Giunta, e sarà nella rete dei teatri marchigiani, presumo nel 2022, probabilmente, primavera prossima, se tutto fila liscio, dovremmo avere finiti i lavori sia del Comune che del teatro. E' chiaro che entrerà nella rete dei teatri anche il teatrino di Sant'Angelo in Lissola, che sono stati ultimati i lavori, adesso con la vicenda del Covid, ahimè, è difficile fare anche l'apertura e fare entrare in funzione i teatri e quindi ogni altra attività, però insomma a breve entrerà in funzione anche quello di Sant'Angelo in Lissola, poi appena inizieranno i lavori, scorrendo la gradatoria della gara d'appalto, speriamo di poter iniziare anche a Bottega un teatro di 330 posti, intitolato al Padre di Raffaello, che dà un tocco all'insieme della vallata nelle attività culturali. Il progetto è quello che è stato approvato dagli organi competenti e solo la ditta, che era una ditta di macerata, che è stata invitata ad iniziare i lavori, fortunatamente per loro hanno avuto, diciamo, altri lavori con la vicenda del terremoto, sfortunatamente per noi, perché era una ditta abbastanza solida, e dobbiamo procedere al secondo, se accetta il secondo, se no dobbiamo procedere al terzo, perché c'è una gradatoria nella gara d'appalto.